5, Fucillo Luca, con il numero 6, Sciarra Mippo, numero 7, Bassolo Cristian, numero 8, Libraro Antonio, con il numero 10, Ilonardo Alessio, numero 11, Bassolo Danilo, numero 12, Testa Marcello, numero 13, Diana Carlo, numero 14, Iacobucci Andrea, numero 15, Cugnardi Francesco, numero 16, Bassolo Marino, numero 17, Libilla Luigi, allenatore inforzato, con il numero 3, Cevalti, Bassolo, con il numero 4, con il numero 13, Libilla Mippo, con il numero 17, Bravo, bravo, vabbè, buona, 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 vabbè, 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 Gia l'occhio, bello ha segnato Izzo con il numero 10 il partito da dietro è un partito vai via che cassa la ghiaccia se no è la policiola il partito da dietro è un partito si fa tutto l'acqua fuori giove tira tira da nì dai bravo Cristiano bravo Cristiano bravo Cristiano bravo Cristiano bello vabbè non c'ho di fare lo sciccato ma perché invece c'è un bel piede questo treo non c'è altro che non c'è l'esporto l'esporto è la Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti